Quello della Varosandra è il più settentrionale di una serie di solchi orientati dal mare verso l'interno che si succedono partendo dall'Istria meridionale e proseguendo poi lungo tutta la costa d'Almata fino al Biocovo. Dal punto di vista strutturale interno la Varosandra si divide in due grandi parti. La parte più interna a monte che è costituita da rilievi arenacei che hanno un aspetto arrotondeggiante, flemmatico si direbbe e sono coperti da una fitta vegetazione boschiva. La parte centrale e la parte terminale, la parte a mare, sono invece rappresentati da immersioni calcare che lasciano ampi spazi aperti non coperti dalla vegetazione e forme si direbbero drammatiche cioè cuspidi, ghiaie esposte e quindi ambienti difficili da colonizzare per la vegetazione. Dal punto di vista floristico la Varosandra ha subito nel tempo numerose colonizzazioni delle quali rimangono vestigia più o meno evidenti a seconda della lontananza nel tempo alla quale risalgono le colonizzazioni stesse. Possiamo dire che tre sono i grandi contingenti che hanno lasciato il segno del loro passaggio nella Varosandra e la loro presenza è dipesa dalle oscillazioni climatiche che si sono succedute durante i millenni. Durante le fasi calde sono penetrati nella valle gli elementi della flora mediterranea per esempio il leccio, per esempio il terrevinto, per esempio l'acero di Montpellier fra gli alberi oppure il teucrio giallo per esempio fra le specie soffruticose o erbacee. Le fasi più fresche invece sono state contraddistinte dalla discesa di specie proveniente dalla fascia alpina. Queste in realtà oggi sono molto rare, ne sono rimaste poche ma possiamo citare fra queste certamente quelle le più note cioè la Daphne alpina per esempio o il pero corvino. Altre sono invece presenti nello stato esbaceo per esempio la Atamanta turbit. L'ultima di queste colonizzazioni è riguardata invece l'afflusso di specie provenienti dalla regione balcanica. Queste sono quelle che attualmente dominano gli aspetti floristici di questi dintorni. Ne citiamo alcuni fra gli alberi per esempio il carpino nero, il frassino della manna, lo scotano fra gli arbusti che è molto diffuso. Ecco quindi l'aspetto attuale della flora è dominata dall'elemento illirico balcanico e in via subordinata come dicevo dall'elemento mediterraneo e dall'elemento alpino. Un discorso a parte va fatto invece per quanto riguarda l'endemismo cioè l'insieme di quelle specie che hanno una presenza costante in territori molto piccoli, molto ristretti. In Varosandra possiamo citarne due. Una la meringia di Tommasini, di questa specie che è stata descritta alla fine dell'Ottocento dal botanico triestino Marchesetti e dedicata al suo maestro appunto Muzio di Tommasini. Di questa pianta attualmente sono conosciute solamente quattro o cinque stazioni di cui quella della Varosandra è la più settentrionale ed è l'unica presente entro il territorio italiano. Le altre tre o quattro si trovano invece sparse lungo l'Istria montana a partire dai bagni di Santo Stefano in Croazia e risalendo fino alle rupi di Cernicao. Per quanto riguarda invece gli aspetti in cui la flora si organizza e che costituiscono lo studio della vegetazione, diremmo che le associazioni vegetali principali in Varosandra sono rappresentate dal bosco sulle pendici arenacee, dal bosco carsico, un brandello del quale costituito in prevalenza da grandi cerri, cioè Quercus cerris, è presente ancora oggi alla sommità del canalone che porta al Cipocomici. Questo bosco è un bosco che rappresenta l'aspetto di massima complessità della vegetazione in sede locale e in Varosandra si trova limitato ai luoghi che ho appena detto. Gli aspetti della vegetazione più importanti dal punto di vista della bellezza e della preziosità sono invece quelli che riguardano la flora degli aioni e la flora delle rupi. Come dicevamo, la Varosandra presenta una spiccata asimmetria diversante dal punto di vista floristico e vegetazionale che coincidono con altrettante caratteristiche di tipo geomorfologico. Il versante rivolto verso di noi è un versante in cui la roccia per l'inclinazione degli strati si è sbriciolata e ha dato luogo a una serie imponente di ghiaie che vengono colonizzate con grande fatica dalla vegetazione perché sono ghiaie in movimento e quindi contrastano con molta efficacia l'azione di colonizzazione della vegetazione. Non di meno vi vedete che paragonando la situazione attuale con quella mostrata dalle fotografie per esempio di inizio novecento si nota immediatamente come il carpino nero abbia risalito molto spesso i ghiaioni e abbia costituito delle macchie che sono tutt'oggi in dilatazione a spese delle ghiaie. La vegetazione erbacea invece dei ghiaioni è una vegetazione che stenta a prendere piede essendo continuamente sottoposta appunto all'azione demolitrice delle ghiaie ed è costituita da una serie di specie fra le quali spicca sostanzialmente la dripis spinosa. Accanto a questa la campanola piramidalis per esempio alcuni agli oppure ancora un endemismo di cui non abbiamo fatto menzione prima cioè una crocifera a fiore giallo la biscutella levigata la sottospecie espressa qui dalla sottospecie ispidissima. Sul versante opposto invece la flora delle rupi. Le rupi costituiscono un ambiente altamente inospitale per le specie vegetali e solamente poche piante riescono a radicare negli interstizi della roccia calcarea e quindi a colonizzare queste gigantesche rupi. Fra queste citiamo solamente forse la più preziosa fra tutte le specie presenti e cioè una piccola felce, l'asplenium lepidum, il nome vuol significare che è una specie molto graziosa, una felce molto graziosa la quale ha un areale che va grossomodo dalle Alpi centro occidentali attraverso l'Austria e poi la Slovenia, la Croazia verso la Grecia dove arresta praticamente la sua espansione. Anche in questo caso la Varosandra rappresenta l'unica stazione in territorio regionale di questa piccolissima felce. Ora superate le rocce del crinale della Varosandra ciò che ci si presenta sono vegetazioni di tipo molto diverso. Qui la vegetazione di tipo arboreo è rappresentata da due grandi categorie, l'una del tutto naturale la Boscaglia carsica i cui protagonisti sono fondamentalmente i già ricordati Frassino della Manna e Ostria Carpinifolia, cioè il Carpino Nero, accanto alla Roverella. Invece un aspetto del tutto artificiale, anche se ormai è entrato nella normale consuetudine, nella visione degli abitanti del Carso, sono le pinete a Pinot Nero. Il Pinot Nero non è originario del Carso, il Pinot Nero è originario della zona delle Prealpi, Giulie, dalla quale fu importato a scopo di rimboschimento dai forestali austriaci alla metà dell'Ottocento. L'esperimento venne condotto da un noto forestale, il Ressel, Josef Ressel, boemo, più noto forse al grande pubblico come inventore dell'elica. Egli fu invece anche un valente forestale e fra le piante sottoposte a sperimentazione per rimboschire il Carso ridotto a una pietraia sovrappascolata, venne scelto appunto il Pinot Nero. I risultati non si fecero attendere. Oggi il Pinot Nero non solo ha rappresentato una fonte di rimboschimento e un ambiente, la pineta appunto, dove ha potuto riprendere naturalmente la vegetazione delle latifoglie. Ma anche è una pianta pioniera che si espande da sé. Se osservate specialmente sul lato diciamo sottovento di una pineta vedete si possono vedere tranquillamente i piccoli esemplari di Pinot Nero direttamente nati da seme che sono i prosecutori dell'opera di rimboschimento iniziata appunto alla metà dell'Ottocento con la piantumazione di estese superfici con il Pinot Nero. Queste superfici si possono tranquillamente vedere specialmente da una foto aerea e si vede che la loro collocazione coincide con le pendici carsiche più sottoposte all'impatto della borra, cioè quelle superfici, quelle zone dove il Carso si piega a ginocchio prima di precipitare verso il mare. La pineta è oggi come dire sottoposta a un regime di taglio per che avvenga definitivamente la sostituzione con la boscaglia carsica di cui abbiamo già detto. Infine due ultimi aspetti che possiamo citare che riguardano invece la vegetazione erbacea. Li abbiamo proprio qui davanti ai nostri occhi e sono costituiti da due tipi diversi di landa carsica. La prima quella che popola tutte le pendici ancora scoperte e che veniva utilizzata come pascolo dal bestiame. La seconda rappresenta una specializzazione della prima e ne vediamo alcuni aspetti qui proprio alle mie immediate spalle, aspetti particolari che sono rappresentati dal fatto che in queste zone la bora picchia più duramente e quindi seleziona in maniera drastica le specie presenti. Per quanto riguarda la landa carsica, essa è costituita la landa carsica di tipo estensivo sebbene oggi essa sia sottoposta a una diciamo a una riconquista da parte del bosco per cui uno dei problemi fondamentali per la conservazione della biodiversità vegetale è appunto legata alla conservazione della landa stessa. Dicevo la landa è rappresentata prevalentemente da una famiglia di piante che sono le graminacee. In particolare in questo luogo le graminacee dominanti sono da un lato il forasacco, il bromo del gruppo erectus e dall'altro il lino delle fate, cioè la stipa eriocaulis. La stipa è presente in maniera così massiva perché il sostrato roccioso è qui molto superficiale e la stipa è una pianta colonizzatrice. Quando ci spostiamo verso il margine invece il bromo viene gradualmente sostituito da un'altra graminacea più resistente all'impatto della bora, dalle foglie molto dure, che è la sesleria a foglie di giunco, sesleria e un cifoglia che potete vedere tranquillamente in queste immagini. Questa graminacea è sovente accompagnata da una piccola ginestra, la ginista sericea, che fiorisce confiature estensive in giallo giallo molto vistoso nella parte di metà primavera. Va ancora detto che il genere ginista è rappresentato in Varosandra da un'altra specie di grande pregio, la quale è una specie che dall'area montane interna della Slovenia scende lungo la penisola balcanica e trova nella nostra Varosandra l'unica stazione italiana, la ginista Olopetala. Facciamo adesso come ultima riflessione una carrellata sulle specie più importanti e più vistose che si possono incontrare procedendo lungo i sentieri della Varosandra e del Monte Estena e rispettivamente del Monte Carso. Sono una serie di piante che certamente il fotografo dilettante apprezzerà per la vistosità dei colori e la bellezza delle forme. Ricordiamo per esempio la Iurinea mollis, una composita dal capolino semisferico con i fiori di colore porporino che sul Monte Estena durante il mese di maggio ha una fioritura esplosiva, direi quasi che forma un oceano di capolini ondeggianti al vento di colore appunto porporino. L'Iris illirica, una bellissima iridacea di piccole dimensioni adattata a vivere su un ambiente inospite come quello della landa carsica e che ha una fioritura fugace quanto intensa proprio nelle pendici qui del Monte Estena. Accanto a questa iris un'altra piccola iris di orlo di bosco, l'Iris Graminea, che si incontra ma non frequentemente lungo i percorsi della Varosandra. Molto più vistoso e più piacevole a vedersi il giglio della Carniola, l'Ilium Carniolicum, con i fiori, con i petali tipicamente rovesciati all'indietro di uno smagliante colore arancione. Sia sul Monte Estena sia sul Monte Carso di fronte a noi è presente in quantità abbastanza rilevanti e la fioritura è sempre attorno alla metà di maggio, primi metà di maggio. In settembre invece colpisce la fioritura blu, estesa fioritura blu dell'Issopo, Issopus Officinalis, una labiata molto aromatica che è andata espandendosi nel corso degli ultimi vent'anni fino a ricoprire estesamente il versante sud-occidentale del Monte Estena. Chi procede lungo i sentieri degli Aioni si imbatterà durante la stagione tardo-primaverile una pianta con una curiosa infiorescenza blu sferica che appartiene alla famiglia delle composite, cioè la famiglia delle Margherite. E' questo l'Echinops rutenicus che è diffuso lungo tutta la penisola balcanica, penetra in Varrosandra e poi si spinge verso nord fino ai rilievi del Carso Monfalconese. Sempre negli Aioni della Varrosandra, una ombrellifera dalla vistosissima fioritura bianca, il Laser Pizium Sealer, non mancherà di destare l'attenzione di chi lo incontra per le sue dimensioni veramente cospicue. Insieme alla digitalis levigata, una scrofulariacea dai grandi fiori di colore arancione che si ritrova diciamo ai margini della boscaglia carsica. Dobbiamo per forza concludere con un accenno alla flora orchidologica, le orchidee spontanee che troviamo in questi paraggi, ce ne sono di diverse specie e le più importanti diciamo quelle che possono essere considerate relativamente le più frequenti sono la plantantera a due foglie dai fiori di colore bianco giallastro e poi due orchidee, l'orchismorio e l'orchistridentata che sono abbastanza frequenti nella landa carsica. Sempre sui ghiaioni l'epipacti satrorubens caratteristica per i fiori di colore rosso scuro e per la possibilità di espandersi attraverso stoloni sotterranei contrastando così l'azione del ghiaione. Infine nelle zone più montane, nelle zone dove l'influenza del clima si fa più mite, la gimladenia conopsea, l'ultima delle orchidee a fioritura vistosa, tardo primaverile. In conclusione un ultimo accenno a un ambiente che non si trova in Varrosandra ma lo si può rinvenire ai margini del parco stesso, della zona protetta, nella valle di Grozzana alle pendici settentrionali del monte Goli. Si tratta della penetrazione naturale in territorio carsico del faggio. Tutti sanno che il faggio è un grande albero della flora montana dove costituisce estesissime formazioni che coprono praticamente tutte le nostre Alpi con un limite diciamo a livello delle prealpi giulie. Poi a sud il faggio nel nostro territorio sparisce e riaffiora appunto nella zona del monte Goli portandosi dietro un corteggio di specie che indicano in qualche modo la sua naturalità. In un tempo così breve come quello che ci è stato messo a disposizione non si poteva certamente pensare di esaurire un argomento così complesso e vasto come quello della flora e della vegetazione di un luogo anche così ristretto come la Varrosandra. La complessità di questi fenomeni è tale per cui il tempo necessario a spiegarli in dettaglio sarebbe al di fuori delle nostre possibilità. Ciò che si può raccomandare a chi guarderà questo documentario è quello di venire in Varrosandra, di frequentarla assiduamente in maniera da potersi rendere conto della bellezza del sito e della sua importanza per quanto riguarda gli aspetti florovegetazionali dei quali abbiamo parlato finora.